Tutto pronto allo stadio Gurrera di Sciacca per ospitare l'evento sportivo internazionale denominato Vendetta Fights Nights Montesuso, in programma domani, un evento internazionale dedicato agli sport da combattimento individuale. Alla manifestazione parteciperanno oltre 50 atleti provenienti da diverse nazioni europee impegnati in molti match di box, kickboxing e muay thai. L'evento è organizzato dalla FTL Management di Francesco Schembri, con il patrocinio del Comune di Sciacca. Ci saranno in palio 10 titoli mondiali europei e nazionali di varie federazioni e categorie di peso. Saliranno sul ring, allestito sul mando erboso dello stadio Gurrera di Sciacca, alcuni dei protagonisti mondiali degli sport da combattimento, che sono molto popolari in tutto il mondo. Parliamo di atleti tedeschi, romeni, svizzeri, italiani e tanti altri, il top del panorama relativo agli sport da combattimento. Sarà rappresentata anche la Sicilia e Sciacca, con in pedana due atleti del sodalizio Bushido Team. L'evento di domani a Sciacca è stato preceduto dalla Vendetta Summer Camp Montesuso, che si è tenuto a Porta Empedocle, presso la spiaggia dell'hotel Villa Romana. E' ancora in corso, tra l'altro, la prevendita dei biglietti per poter assistere al grande evento di domani allo stadio di Sciacca. Il pubblico potrà assistere alla manifestazione, munito ovviamente di Green Pass o di tampone eseguito entro le precedenti 48 ore.